Oggi siamo qui per celebrare l'oltre miliardo di investimenti che Acquiotto Pugliese è riuscito a lanciare nel 2022 con altre tante gare, alcune delle quali sono già andate a conclusione per oltre 600 milioni, quindi sono già stati affidati i lavori, altri hanno in questo momento un percorso che sta andando in conclusione. Perché lo vogliamo sottolineare? Perché intanto c'è un rapporto, una propensione allo sviluppo dei nostri investimenti che 15 volte quello che investiamo, quindi se non investiamo un miliardo, il sistema cresce di 15 miliardi, quindi questo è un fatto estremamente importante ed è sicuramente un motivo di vanto per tutti noi, AIP, la Regione e ovviamente Acquiotto Pugliese, quindi è sicuramente un modo che stiamo portando avanti di rilanciare e far sviluppare la nostra Regione.